L'uninominale, il plurinominale, i singoli partiti, le coalizioni, i nomi in lista. Le schede per eleggere i futuri componenti di Camera e Senato presentano una serie di elementi utili per comprendere come funziona il voto e come questo si riverbera sull'indicazione degli eletti. L'elettore troverà 15 simboli di partito con la presenza di due coalizioni da quattro soggetti e sette proposte singole. Sopra ogni singola proposta o coalizione in uno spazio riservato è indicato un nome, quella casella e quella dell'uninominale. Il nome indicato è quello su cui punta il partito o la coalizione per la quota di un terzo dei seggi di ciascuna delle due camere. Gli altri due terzi vengono eletti sulla base dei risultati e conseguiti dai singoli partiti anche all'interno delle coalizioni. I partiti indicano in scheda una lista bloccata di quattro nomi. L'ordine degli stessi indica la preferenza dei partiti, quindi il primo candidato ha possibilità molto maggiori rispetto al quarto. All'uninominale ciascun collegio elegge un solo rappresentante. Un voto in più dell'avversario regala il biglietto per Roma, come prevede il maggioritario. La circoscrizione elettorale bellunese per la Camera è Veneto 1, che comprende le province di Belluno, Treviso e Venezia e pesa per 13 seggi. Al suo interno cinque circoscrizioni, una delle quali interamente bellunese. Ognuna di queste serve per eleggere i deputati all'uninominale, mentre il plurinominale distribuisce altri otto seggi con logica proporzionale su tutto il territorio di circoscrizione. Semplificando, all'uninominale passa la preferenza provinciale, al plurinominale le scelte di tre province. Al Senato accade lo stesso, la circoscrizione è quella del Veneto, ma per il plurinominale c'è un collegio che comprende le province di Belluno, Treviso, Venezia e Rovigo, mentre per l'uninominale il collegio è quello di Treviso, che include Belluno. Semplificando anche qui, all'uninominale passa la preferenza di Bellunesi e Trevisiani, al plurinominale quelle di mezza regione. Per il plurinominale vale sempre quanto detto prima. Se un partito ha diritto a un seggio, il posto spetta il primo nome nella lista bloccata riportata sulla scheda.